Avvocato De Benedittis, intanto la prima reazione a caldo, la coalizione di centrodestra si è stretta alla fine compatta sul suo nome. Sì, finalmente, dopo un po' di tribolazioni, però la coalizione si è stretta, tutti quanti insieme, io sono contentissimo, accetto questa sfida perché è una sfida non indifferente, non sono iscritto in nessun partito, quindi sto con tutti, tutti stanno con me, adesso bisogna solo correre, correre parecchio perché siamo in forte ritardo. Ecco, una città della quale lei avrà una sua idea, quali saranno i punti principali del suo impegno? Sicuramente in tema di lavori pubblici, la viabilità, i marci a piedi, le aree verdi, nelle contrade, l'illuminazione, rifare un po' le strade dappertutto. Adesso con i fondi che ci vengono dalla PNRR e dalla FSE abbiamo diversi fondi da poter utilizzare proprio in questa direzione. Poi ci sarà tutto il resto, ci sarà un programma e con quel programma avremo di fare il meglio per la nostra città in questi cinque anni. Ecco, lei ha fatto accenno ai fondi, ci saranno da amministrare 110 milioni di euro, un impegno molto importante che verrà spalmato su vari fronti, compreso quello del sociale, delle nuove povertà. Sì, ma io credo che con l'aiuto delle strutture, dei dirigenti, dei funzionari e della Comune sicuramente riusciremo a raggiungere anche questo obiettivo, anche perché è una cosa importantissima e non possiamo tralasciare e dobbiamo sfruttarla al massimo. E poi restituire soprattutto a Campobasso il ruolo non solo di capoluogo, che quello è ufficiale, ma sulla carta di guida di una regione. Beh, certo, il capoluogo regionale quindi deve essere inteso come una guida per tutta la regione. Io in questo momento devo ancora digerire la nomina, la candidatura e voglio ringraziare tutti i consiglieri regionali, il Presidente Roberti, il Dottor Di Sandro, Fabio Cofelice, tutti i consiglieri regionali, i parlamentari, tutti quanti, perché tutti sono confluiti sul mio nome. Quindi devo ringraziarli tutti, mi fa piacere ringraziarli. E anche la Lega che in un primo momento era stata tiepita, però poi ha trovato una convergenza. No, no, va bene, ma nella dialettica democratica dei partiti questo è normale, non è che chi è stato in politica poi come me, io sono stato 15 anni al comune di Campobasso, quindi so di cosa si tratta. E va bene, andiamo avanti, adesso dobbiamo correre, quello sì.